Porci, siamo in coda con Novegro, guardate qualche roba, tra l'altro piove, fantastico Un Novegro senza pioggia non è Novegro Soprattutto con lui, dato che da quello che mi ha detto arriva sempre Novegro con la pioggia Sì, due anni fa praticamente diluviava, qui almeno piovigina Io ogni volta che vengo a Novegro, invece non piove, con lui piove, porti sfiga Sì, se ne faccio una ragione doc Comunque, io sono Pighead, lui è Valdez, in tenuta da Doc I'm the doctor Con tanto di tracolla aggiuntiva Sì, tracolla aggiuntiva dovrò pur mangiare anch'io in questa vita Davvero? Io non mi rigenero Che sfiga, dovresti farlo Comunque temo che qua andrà per le lunghe Per il resto penso che vi lascerò al video con montaggio di foto, cosplayer, dei stand E con un bel sottofondo musicale Enjoy it! Comunque, non mi rigno, non mi rigno, non mi rigno, non mi rigno E con un bel sottofondo musicale Comunque, non mi rigno, non mi rigno Mi rigno, non mi rigno e non mi rigno Sì, se volessi a volerci, pensi a pensare. Mi chiedevo a provare l'amplice. La prima volta di un'ultima, Ima mo' mada u maku tobe nai keredo Meguri meguru toki o koe Hitaすら ni cunai da te o tado teku Kasa na'u kanjo no naami wo Tumui de kitsuku musubi tsuketa Kizukanu mama muke awarete ta Yasa shima hashi ga ima datte mune o tsukio Kawaii atta kara Mi uishina atta Zibun dake ga shiri ulu mok teki zi Tabi datu hina dori tatu wa Murelu koto naku Sore kore no bašo e Kodoku no imi wo shittara Nau sara ni cunagarelu to shinjiteru Tumari ni te yo Kimi no nukumori ga Kimi no nukumori ga Ima Ima Tabi datu hina dori no uta Ima mo mata umaku tobe nai keredo Meguri meguru toki o koe Hita suure ni Hita suure ni Tsunai da te wo Sato te So I never let you go Kodoba wa Sura ni kiheteku bakari da to shitemo Sura ni kiheteku bakari da to shitemo Chirabaru hikari no naka de Majo wa zu ni kimi wo saagashisateru kara Sura ni kiheteku bakari da to shitemo Sura ni kiheteku bakari da to shitemo E dopo una bella mattinata di camminata ci si riposa un po' perchè mi ha iniziato a venire su un casino parecchio casino Cioè contate che all'inizio della giornata non c'era nessuno Bombetta in alto Sura il bordello è qualcosa di improponibile e anche dalla sua faccia si capisce la stanchezza di un uomo Si è vero Però non è nulla in confronto a luca comics o a cartoonis Nulla Beh decisamente dato che è luca comics devi passarti le giornate per vederlo tutto Beh non so non lo vedrai mai Vabbè qualcosa si Nel frattempo è partita anche la disco anni 80 Fantantico In realtà è un po' vecchiotta questa Ah mi si è rovinato il trucco del naso Devo ritoccarlo Si perchè quando siamo arrivati come avete visto avevamo l'ombrello Stava piovendo e Possiamo dire che non è stata una giornata infruttuosa Vi faccio vedere subito gli acquisti Abbiamo Primis la action figure di Pain Incartatissima tra l'altro perchè Non c'era la scatoletta Aspettate che la metto via E successivamente Il pezzo forte Ovvero Aspettate un attimo Boom Supersonico Finalmente Ho realizzato il sogno della mia vita Non c'è un figure di Supersonico Mentre invece Valdazio si è preso Scara Di Naruto Fai vedere? No non c'ho voglia di tirarlo fuori Rottore Aspetta Tanto non devi tirarlo fuori dalla carta Basta anche della carta Mettiti a fuoco Fatto benissimo tra l'altro E' un po' schifo Però 10 euro Ma si dai Per 10 euro Voleva la pena Il mio ha necessità giusta di un pochino di colla Nella giuntura tra le gambe e il busto Poi per il resto è perfetto Spero che il video vi sia piaciuto E spero che le foto vi siano state gradite Ho cercato di prendere quanti più cosplayer possibili E soprattutto di trovare quelli più belli e più significativi Almeno per me Almeno ovviamente perché le foto poi rimangono a me Detto questo Ragazzi like, commenti, sharing sapete come fare Link alle pagine facebook sempre in descrizione E se non siete ancora iscritti iscrivetevi Da Novego Pighead Vivalde E' tutto Alla prossima Ciao ciao